Non si poteva non ricordare una straordinaria figura proiettata sul futuro, nel futuro, già nel futuro come Pier Giorgio Cattani. Intellettuale, filosofo, giornalista naturalmente, leader politico, insomma tante vite in una, in una vita di solo 44 anni è stato veramente straordinario per molti aspetti. Mi piace che molti abbiano trovato che si potrebbe dire che è un libro Quattro Mani, naturalmente non potevo firmarlo a nome di uno che se n'è andato da un'altra parte, spero bella e spero felice per lui, ma ne sono sicuro, però è diventato un autoritratto ritratto perché nel fare il ritratto suo, soprattutto negli ultimi anni della nostra vita, ho fatto anche un autoritratto mio, quindi sì, in qualche modo siamo insieme in questo autoritratto di due futuribili. Ma io spero per tutti quelli che l'hanno conosciuto, e sono tantissimi e che l'hanno amato, e sono tantissimi, ma anche per magari un giovane che la mattina si sveglia e nonostante il sole magari si sente la nebbia, la notte dentro di sé. Imparare da creatura futura, da Cattani, quanta voglia di vita lui aveva, come si è goduto la sua vita, come si è appassionato la sua vita nonostante tutte le sue difficoltà, è una straordinaria elezione esistenziale.